Miniti non sta seguendo la politica della Lega, Miniti sta seguendo le richieste dei sindaci, che sono ben diverse da quelle della Lega. Mi scusi, ma faccio un esempio. No, no, ma qui si sono di sindaci. Quando dicevamo bisogna provare ad avere un'interlocuzione con le realtà complesse, difficile della Libia. Pazzi, cosa state dicendo? Minitrati di Libia. Quando dicevamo bisogna fare un blocco navale, la Pilotti ha detto bisogna fare un blocco navale. Oggi, non tre anni fa però, quando lo dicevamo noi. Quando dicevamo, e chiuncludo, bisogna intervenire sulle rotte delle migrazioni. Adesso ci raccontate che bisogna farlo.